La pandemia è stata una crisi, una crisi di un ben lungo anno, da marzo fino ad adesso e continuerà. Da una crisi mai si esce come prima, mai. Usciamo migliori o usciamo peggiori. E questo è il problema, come uscire migliori e non peggiori. Cosa ci aspetta il futuro? Ci aspetta la nostra decisione, cosa farà? Se noi vogliamo uscire migliori sarà una strada. Se noi vogliamo riprendere più o meno le stesse cose sarà un'altra negativa. E come si esce migliori? E si deve fare la revisione di tutto, di tutto. I grandi valori ci sono sempre nella vita, ma i grandi valori vanno tradotti nella vita dei momenti. Perché i momenti storici non sono gli stessi. Noi dobbiamo fare un'analisi molto forte delle situazioni che oggi si vivono. Situazioni brutte nel mondo. Tu pensa ai bambini senza scuola e con fame. Pensa ai bambini in guerra, che sono nati in guerra e da dieci anni sono cresciuti in guerra. Non sanno cosa sia l'odore della pace. Una domanda che tutti noi dovremmo fare è come fare perché i bambini abbiano da mangiare e abbiano scuola. A tempo ho detto, qualcuno mi ha scherzato, dopo dicendo ma no, non è vero. Perché noi siamo già nella terza guerra mondiale. A pezzetti, no? Una lì, otra lì, otra lì. Ma ci stanno. Come si fa la strada alla pace? È un problema serio che si deve prendere sul serio. Se noi vorremmo uscirne senza vedere queste cose, la uscita sarà un'altra sconfitta. Sarà peggiore. Sono dei problemi gravi, soltanto questi due, i bambini e le guerre. Prendiamo questi due soltanto. Dobbiamo uscirne sulle cose concrete, niente di fantasie, no, le cose concrete. Oggi, come si può per cambiare un po' questa situazione? Pensa nelle statistiche che dicono che togliendo un mese di spesse di guerra, si darebbe da mangiare per un anno a tutta l'umanità. L'umanità che ha fame, no? Prendere coscienza di questa drammacità del mondo. E non tutto è festa, no? Per questo io dico, per uscire di questa crisi, ma per uscire con la testa alta, cioè migliori, dobbiamo essere realisti. Oggi ci vuole realismo. Ci vuole realismo. Io credo che, eticamente, tutti devono prendere il vaccino. Non è un'opzione, ma che mi sembra, che non mi sembra, no, è un'opzione etica. Perché ti giochi tu la salute, ti giochi la vita, ma anche giochi la vita di altri. La settimana prossima incomincieremo a farlo qui. E io mi sono prenotato. Mi sono prenotato, sì, 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 si deve fare. Quando ero bambino, ricordo che è stata la crisi della poliomeliti. E tanti bambini sono poi rimasti paraletici per questo. E c'era la disperazione per prendere il vaccino. Quando è uscito il vaccino, subito prende il vaccino, ti lo davano con il zucchero. E le mamme disperate, no? Poi noi siamo cresciuti all'ombra dei vaccini, no? Per il morvillo, per quell'altro, per l'altro. Vaccini che ci davano da bambini, no? Non so perché qualcuno dice, no, il vaccino è pericoloso. Ma si lo presentano i medici. Come è una cosa che può andare bene, che non ha dei pericoli speciali, perché non prenderlo? C'è un negazionismo suicida lì, che io non lo saprei spiegare, eh. Ma oggi si deve prendere il vaccino. Pensare al noi. Cancellare per un tempo, fra parentesi, l'io. O ci salviamo noi, o non si salva nessuno. Come mai potremmo parlare di questo, della fraternità? Per me è una parola che ci può aiutare tanto, no? A pensarla. Vicinanza. Le guerre, l'ingiustizia sociale, il gettare giù la gente. sono i gesti di allontanare la gente. Allontanare uno dall'altro, no? No, vicinanza. Questa è la sfida. Farmi vicino dall'altro. Farmi vicino della situazione. Farmi vicino dei problemi. Farmi vicino delle persone, no? E contro la vicinanza non è soltanto l'allontanarmi, ma c'è... c'è questa cultura dell'indifferenza. come si dice, un sano menefreghismo dei problemi, no? Il menefreghismo non è sano lì. La cultura dell'indifferenza distrugge, perché mi allontana. l'indifferenza, la cultura dell'indifferenza. Menefreghismo non mi interessa. E va giustificata, ma se noi vorremmo risolvere tutti i problemi non potremmo vivere, no? E' così, no? L'indifferenza. E questo ci uccide, perché ci allontana. Invece la parola chiave per pensare, il problema è pensare le vie di uscite, è la parola vicinanza. Io mi avvicino alla gente, ai miei fratelli, alla gente che soffre, alla gente che è in difficoltà. E anche mi avvicino per aiutare non solo a risolvere questo problema, ma a aprire la strada per andare avanti in una soluzione di questa crisi, perché noi avessimo la possibilità di uscire meglio e non di uscire peggiori. Vicinanza contro quella cultura dell'indifferenza che ci allontana. Pensare un po' ai gesti di vicinanza, a decisione di vicinanza, e poi ai gesti di indifferenza che ci allontanano, no? E questo ci può aiutare. Nelle comunità, per esempio, pensiamo alla classe dirigenziale, no? Pensiamo a una chiesa, per esempio, alla classe dirigenziale, dirigenziale, la vita politica di un paese. Una classe dirigenziale ha il diritto di avere punti di vista diversi e anche di avere la lotta politica, pensiamo in politici, per esempio. Ha un diritto, il diritto di imporre la propria politica del partito, della società, quella, ma in questo tempo si deve giocare per l'unità, sempre. In questo tempo non c'è il diritto di allontanarsi dell'unità. La lotta politica è una cosa nobile, perché la politica è una delle attività più nobili della persona. Quando è per il bene comune, per far crescere la società, è nobilissima, sia di questo partito, sia di quell'altro. I partiti sono strumenti, ma quello che vale è l'intenzione di far crescere il paese. Ma se i politici sottolineano più l'interesse personale, non l'interesse comune, rovinano questo. In questo momento la classe dirigenziale, tutta, i politici, tanti e tanti dirigenziali, non ha il diritto di dire Dio, io. Si deve dire noi. E cercare una unità davanti alla crisi. Passata la crisi, ognuno dica io di nuovo. Ma un politico in questo momento, un pastore, un cristiano, un cattolico, in questo momento, anche un dirigente, un vescovo, un sacerdote, che non ha la capacità di dire noi invece di io, non è all'altezza della situazione. Il bene comune di tutti. Io, ma no, io metto queste condizioni, dal contrario, questo non va. In questo momento questo si chiama egoismo. Questo si chiama un modo diverso di non andare sulla strada della soluzione dei problemi. L'unità. L'unità. Perché sempre l'unità va più di là del conflitto, è superiore al conflitto. I conflitti nella vita sono necessari, perché ci se ne sono. Ma in questo momento i conflitti devono fare vacanze. E sottolineare l'unità. L'unità del Paese, l'unità della Chiesa, l'unità di questa società. L'unità, l'unità. C'è la fratellanza. Ma con questa unità io perdo l'opportunità di vincere le elezioni. E questo non è il momento. Non è il momento della raccolta. L'uva si raccoglie in autunno. E in estate non andrà bene. La raccolta è il momento di pace, di non crisi. Questo momento è il momento della semina. Seminare tutti i beni comuni. Io dico a tutti i dirigenti, siano pastorali, siano politici, siano imprenditoriali, di cancellare per un tempo la parola io e dire la parola a noi. Perdo l'opportunità. La storia te ne darà un'altra. Ma non fare il tuo negoziato, il tuo negozio, sulla pelle dei fratelli e sorelle che stanno soffrendo la crisi. Davanti alla crisi, tutti insieme. Noi. Cancellare l'io per il momento. L'io di prendere, ma l'io di fare si fa. La vicinanza ti porta a risolvere dei problemi. In questa città di Roma, ma anche di altri paesi, in questo tempo incominciarono a uscire gli usurai che fanno suonare il campanello per risolvere il problema e poi finiscono i manetti. Questi non si avvicinano per risolvere il problema, ma per prendere vantaggio del problema. Vicinanza per domandare di cosa hai bisogno, come posso aiutarti. E questa è fratellanza. sulla necessità degli altri io faccio un passo avanti. Sono generoso. In questo, realmente, qui a Roma ho visto tante cose buone. Noi, nella Caritas, abbiamo raddoppiato più di raddoppiato il numero di gente che viene o che chiede. E noi dobbiamo darle. vicinanza per accompagnare, vicinanza per risolvere, vicinanza per aprire strade di speranza. La speranza si semina con la vicinanza. beh, ti prendo per mano, io ti aiuto. Ma questa è fratellanza, che è la parola chiave con la quale tu hai cominciato. Noi dobbiamo essere inventivi, dobbiamo essere audaci inventare strade di vicinanza. E se tu non fai questo, se tu non ti avvicini perché tutti siano salvati, neppure tu ti salverai. Questo è molto semplice, quello che io dico, ma è così la vita, no? Nessuno si salva da solo. Noi possiamo dire che questa è poi la cultura dello scarto. Le persone che non sono utili si scartano. Si scartano i bambini non volendoli o mandandoli al mitente quando si vede che hanno qualche malattia o che o semplicemente no, non è voluto. Questo bambino che si prima della nascita si cancellano dalla vita. I sicari, diceva lei. I sicari. Qualcuno dice no, ma se c'è una una cosa sì si può fare la religione ci capirà. Ma il problema dell'avorto non è un problema religioso. Stai attento, eh. È un problema umano pre-religioso. È un problema di etica umana. poi le religioni lo seguono non lo seguono ma è un problema che un uomo anche un attio deve risolvere l'inconscienza sua. Ma io ho il diritto di fare questo perché è una risposta scientifica. alla terza semana quasi la quarta c'è l'ADN sono tutti gli organi del del nuovo essere umano che è nel grambio della mamma. È una vita umana è una vita umana. Io faccio questa domanda è giusto cancellare una vita umana per risolvere un problema? Sì qualsiasi problema no non è giusto è giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Uno che uccida quella via umana? Giusto questo è il problema dell'avorto scientificamente e umanamente non è mischiare la religione questo vengono dopo ma la coscienza umana non perde la coscienza umana ma sono andato un po' su questa strada per la tua domanda ma scartare i bambini anche scartare i bambini come ho parlato prima senza educazione se ne scartano per assolutarli dopo scartarli per senza fame senza togliere la fame crescono malati e muoiono i bambini non producono non vanno scartati scartare gli anziani anziani non producono ma vanno scartati scartare gli ammalati può accelerare la morte quando è terminale scartare affinché la cosa sia più comoda per noi non ci porti tanti problemi questa è la cultura dello scarto scartare i migranti sulla nostra coscienza pesa la gente che è affogata nel Mediterraneo perché non se la lasciava venire ma se tu non metti i mezzi di aiuto è un problema non c'è intenzione ma c'è intenzione ma nascosta e così una detto l'altra no? in questa cultura dello scarto ci vuole una costura dell'accoglienza invece scartare accogliere non vale la cultura dell'indifferenza tutti i fratelli non vale guardare in un'altra parte tutti i fratelli questa è la strada per salvarci la vicinanza la fratellanza e fare tutto insieme fratellanza che non vuol dire fare un club di amici no tutti la fede è un dono la fede è un dono gratuito io farò questo per avere fede? no non si può comprare la fede la fede è un dono diciamo la verità e in situazioni difficili tante volte c'è gente che si apre e riceve il dono l'unico atteggiamento nostro è aprirci aprir il cuore per ricevere il dono e tanti altri non hanno questa possibilità questa capacità non voglio giudicare cosa hanno ma si chiudono di più tu hai parlato dei suicidi ora è gente che non trova speranza la fede per me ma per tutti è un dono se non viene come un dono non c'è fede a me sempre ha colpito nel libro del Deuteronomio che Dio dice al suo popolo ascolta quale popolo della terra ha i suoi dei così vicini come tu hai me Dio si presenta come il vicino e poi in Gesù Cristo si è fatto più vicino perché ha condiviso la nostra vita con il lavoro e anche con i problemi la passione e la morte ma questa vicinanza di Dio per noi nella fede è un dono che dobbiamo chiedere un augurio che possiamo uscire dalla crisi migliori e questo significa che ognuno di voi prenda coraggio e pensi alle altri come posso farmi vicino agli altri per aiutarli no che non si può farsi vicino no fisicamente no come puoi farti vicino per aiutare questo è importante no e che non ci siano così le scarti che non ci siano questi atteggiamenti egoistici del io no soprattutto i gruppi no i gruppi dirigenziali siano imprenditoriali religiosi o politici mai fare una questione dell'io no tutti noi l'io lo faremo dopo voi l'unità l'unità è più grande del conflitto e pregare pregate di più grazie l'unità 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 Grazie a tutti.